Ma perché dipendiamo da lui? Perché? Questa è una domanda che praticamente ogni tiposo rosso-nero si pone quando fa la cacca, prima di fare la spesa, prima di addormentarsi, perché il nostro mercato deve dipendere dalla scelta di un uomo? Prima di rispondervi a questa domanda permettetemi ancora di dirvi grazie, ho fatto ieri uno short di ringraziamento per i 1000, speciali 1000 iscritti, quindi correte a vederlo, grazie ragazzi perché prima del video dell'altro ieri sulla notizia inerente alla cessione ancora del Milan a un fondo arabo, ma ne mancavano 32 ai 1000, 93 iscritti con un solo video, quindi grazie, grazie, grazie. Ragazzi per chi non mi conoscesse, per chi fosse nuovo, io sono un tifoso come voi, a cui piace condividere con voi le proprie emozioni, i propri ragionamenti in merito al mercato, lo schieramento tattico, il mister eccetera eccetera eccetera, non sono un giornalista quindi io non riporto per primo la notizia, non faccio uno scoop, ho preso quella notizia da un canale ben più grande e famoso di me, Milanello, soprattutto l'ho riportata perché la notizia è stata detta da Martinelli, uno molto autorevole in quel canale, di uno che raramente quando parla spara una cavolata, aveva anticipato la trattativa Invescorp da mesi, mesi e mesi, aveva anticipato quella con Redbird, notizie che inizialmente erano smentite in Italia perché ragazzi quando si parla della cessione di un club importante o la trattativa entra nelle fasi calde oppure ancora quando si è in una sorta di pur parler, tutte le parti in causa hanno interesse a mantenere la segretezza. Ho riportato la notizia perché la considero veritiera facendo un 2 più 2, vedendo la fretta che ha cardinale per costruire lo stadio, aggiungendo le notizie secondo cui Gerry avrebbe molte difficoltà a trovare gli investitori per ritornare i soldi prestati da Elliot, quindi la ritengo molto molto plausibile, visto anche i recenti interessi di Invescorp che potrebbe ben presto tornare alla carica. Detto questo ragazzi mi raccomando non fatemi mai mancare il vostro supporto, i 1000 sono stati raggiunti, adesso road to 5000 porca miseria, non fermiamoci adesso, dobbiamo diventare la community di capoccia più dure del web, soprattutto correte ad iscrivervi a due canali amici amici a cui tengo molto, Josip, mi raccomando correte ad iscrivervi al suo canale Domebet, due ragazzi con cui condivido l'insieme di dirette l'angolo rosso-nero ogni giovedì alle ore 17.30. Scusate per questo preambolo più lungo del solito, allora ragazzi perché? Perché? Dipendiamo da Marco Sturano, cazzo vorrei rispondere a questa domanda, scherzi a parte, il ragionamento che io ho fatto è il seguente il budget ragazzi non è illimitato, il Milan è più o meno avrà dei 60-70 milioni da spendere sempre se Gerry Cardinale inizia a fare il suo dovere l'anno scorso vi aveva anticipato il budget da 50-55 e così è stato guardando il bilancio quest'anno tecnicamente guardando il bilancio, facendo le cose per come vanno fatte ci sarebbero una settantina di milioni, ovviamente ripeto per tutto l'anno non per solo l'estate perché i fondi ragionano così, stanziano un budget inizio anno e andrà bene per tutto l'anno sia il budget quindi per il mercato estivo sia per quello invernale ragazzi il Milan deve fare tanto, il Milan deve prendere un terzino destro perché come abbiamo fatto l'anno scorso con Dest che non è andato, non può stare solo alle speranze di Florenzi come riserva che non offre le adeguate garanzie tecniche deve prendere un sostituto di Teo Hernandez vendendo Balloturè deve prendere due centrocampisti perché già uno doveva essere sostituto di Chessi mai preso e l'altro deve essere preso per sostituire l'infortunato Benassere Kamada prende il posto di Brandiaz ma dobbiamo prendere in aggiunta un esterno destro un vice leao con la cessione di Rebic e praticamente due punte una potrebbe essere Colombo anche se spero sempre un suo ulteriore prestito per farlo crescere magari una monca data alla Kalulu però in attacco e la punta titolare ovviamente con le cessioni noi non riusciamo a coprire sempre i sostituti perché vendendo Balloturè è difficile che vai a prendere un sostituto di Teo Hernandez a meno che non prendi Valeria Zero se vendi Rebic è difficile che vai a prendere con i 6-7 milioni che ti può garantire Rebic il sostituto di Leao che secondo me nell'idea di Moncada potrebbe essere quell'ocafore che tanto abbiamo desiderato nel mercato di gennaio perché Ocaforti chiedono 15 milioni quindi ci sono altri soldi da aggiungere ecco l'idea che mi sono fatta è che Moncada di cui io personalmente nutro una stima infinita perché è veramente un caposcoutto competente lo ha dimostrato in ogni dove poi certo dal fare il caposcout a condurre le trattative ce ne passa ma tecnicamente questo è il compito di Furlani anche lì una persona che non si è mai occupato di calcio giocato si è sempre occupato di conti una persona da un curriculum rispettabile però poi i rapporti umani il calcio del trattativo è solo un'altra cosa spero di sbagliarmi da questo punto di vista però ecco l'idea di questa squadra dirigenziale del Milan è inizialmente risparmiare sulla punta quindi prendere Turam a zero in maniera tale che hai tutto il budget per poter prendere un esterno destro veramente veramente forte come Chukweze come Nico Williams eccetera quindi alzare enormemente l'asticella a destra in maniera tale che poi i restanti 25-30 milioni insomma in base a quanto poi spendiamo per Chukweze le vai a destinare in tutta una serie di operazioni di completamento della rosa perché ripeto c'è un centrocampista da prendere si stavano facendo tanti nomi ormai Loftus-Cic ha accantonato perché senza Maldini e Mastare che avevano praticamente concluso l'operazione a 15 più 3 come avevo anticipato la nuova proprietà non è più interessata a questo profilo è uscito il nome di Ulmand che io ritengo una praticamente occasione ripetibile perché il Lecce si accontenta di una quindicina 13-14 milioni e secondo me è un giocatore di livello ragazzi su Turam io leggo sempre considerazioni contrastanti c'è proprio chi lo considera un Orighi 2.0 c'è chi lo considera un fenomeno io da che parte sto ragazzi io la vedo un'operazione a zero sicuramente molto intelligente perché è un buon calciatore è un calciatore che in questo momento si trova in un limbo, in un confine tra l'affermarsi come grande calciatore e rimanere buon calciatore non è mai arrivato a livelli top se non per pochi periodi dell'anno ha dimostrato un po' di discontinuità anche per guai fisici non gravissimi ma comunque i guai fisici li ha avuti l'ultimo in realtà molto grave perché non mi ricordo se si è rotto il menisco il collaterale però comunque ha avuto un guai fisico importante da cui si è ripreso enormemente l'ultima stagione vista come terminale offensivo del 4-2-3-1 ha segnato 13 gole e 6 assist buona stagione in una squadra media in Germania come il Borussia Mönchengalsbach ragazzi quello che penso io è che onestamente è un calciatore da prendere a zero che secondo me può trovare al Milan la sua dimensione come è stata per Teo Hernandez ai tempi non è per me un calciatore che diventerà un fenomeno come Teo Hernandez nel suo ruolo quindi punta per un calciatore che se lo prendi e soprattutto insieme a lui vai a prendere un esterno destro di livello a quel punto tu i gol il target di gol lo raggiungi perché i 15-17 te li fa Leao i 15 te li può fare Turam gli 8-9-7-10 te li può fare Chukwez Kamada che è un ottimo soldatino ti può fare quei 4-5 gol e molti 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 assist perché come vi ho sempre detto è un Cialanoglu con gli occhi a mandorla tra virgolette anche a livello di numeri quindi è uno molto che dove lo metti sta e fa il suo più continuo sicuramente del Cialanoglu che abbiamo visto con la media del Milan ed è l'obiettivo di gol è che lo raggiungi così perché dovesse rifiutarci Turam ragazzi purtroppo mettetelo in conto perché è vero che il PSG ora non sa più chi prendere come allenatore quindi si sta dedicando al Totò allenatore dovrebbe essere Luis Enrique e a quel punto non lo vedo tanto bene un Turam nel calcio di Luis Enrique però ecco in quel caso c'è l'Ipsia c'è l'Ipsia una squadra che comunque sia offre la titolarità come noi a Turam sicuramente non hai la stessa possibilità di vincere qualcosa all'Ipsia rispetto al Milan non me ne vogliate amici tedeschi però penso sia un dato di fatto il fatto è che siamo sempre là l'Ipsia offre molti più soldi del Milan il Milan offre 4 4,5 più qualche bonus l'Ipsia offre si parla addirittura di 6-7 milioni netti più bonus più addirittura commissioni l'auto e commissioni al procuratore ragazzi lì poi è una scelta del giocatore io non sono né ottimista né pessimista aspettiamo questa scelta qualora il Milan dovesse vedere sfumato Turam come vi dicevo può in qualche modo essere capovolta la strategia di mercato quindi andare a prendere a poco un esterno destro forte come il Nelson della situazione io non l'ho mai caldeggiato perché già dall'Inghilterra rimbalza di un accordo trovato con l'Arsena per il nuovo di contratto oppure un Pulisic preso in prestito perché magari il Celsi ti dice va bene ciucueze ciucuemeca scusate mi sono anche confuso con tutti questi ciucche nel filtro di Moncada ciucuemeca ve lo do in prestito però non vogliamo concedervi diritto di riscatto allora il Milan dice va bene facciamo l'operazione alla Brandiaz tra virgolette ci hanno dato in prestito abbiendale però ci date anche Pulisicci in prestito in diritto di riscatto in maniera tale che poi il Milan può investire soldi nella punta e a quel punto si parla di un interesse rinnovato per Openda si parla di un interesse di UAE nome a cui non credo tanto perché sparano cifre enormi potrebbe ritornare Moffi del Nizza in Lizza così come altre attaccanti 20-25 per Taremi insomma poi lì si aprirebbe ripeto un capovolgimento alle strategie della squadra dirigenziale del Milan fatemi sapere cosa ne pensate soprattutto di Marcus Turam lo vedete un buon giocatore a zero lo prendereste o meno preferireste andare su un nome più affermato preferireste questo capovolgimento delle strategie quindi andare a prendere a poco l'esterno destro per poi puntare tutto sulla punta spendendo i bei soldini commentate mi raccomando ricordatevi che le vostre interazioni sono vitali per me per questo canale per permettermi di portarvi sempre contenuti più interessanti mi raccomando ecco il video commentate condividetelo con gli amici iscrivetevi al canale Rode2 5000 iscritti bella raga vi ringrazio ancora per essere stati con me buon pranzo a tutti buon pranzo a tutti buon pranzo a tutti qui è buon pranzo a tutti